Per dare risposte concrete alle piccole e micro imprese che incontrano difficoltà nell'accesso al credito, Confesarcenti mette in campo due strumenti di finanziamento complementari al sistema bancario, un modo per sostenere il tessuto produttivo in un momento storico particolarmente difficile, aggravato anche dalla crisi energetica. I nuovi strumenti di finanziamento, erogati direttamente dalle società del sistema Confesarcenti per le micro, piccole e medie imprese associate, sono stati presentati in conferenza stampa presso la Camera di Commercio di Pescara. A parlarne al Tg8 è stato Lido Legnini, direttore di Confesarcenti Abruzzo. Oggi presentiamo due strumenti molto importanti, soprattutto per le piccole e micro imprese, che poi sono fondamentalmente la nostra base associativa. Come sappiamo negli ultimi anni c'è stata una rivoluzione totale nel mondo del credito, quello che è successo nel mondo bancario, non solo in questa regione, ma insomma ha riguardato tutta l'Europa, tutto il mondo, ma in particolare da noi c'è stato un restringimento delle maglie di concessione della liquidità che ha riguardato soprattutto le micro che non riescono, non sono riuscite in questi anni ad avere i parametri giusti, i parametri europei giusti per l'accesso. Allora, come associazione di categoria, come Confesarcenti, abbiamo pensato in questi ultimi anni a dare una risposta a queste esigenze attraverso uno strumento che eroga direttamente un piccolo prestito, un prestito fino a 45.000 euro massimo, nei confronti delle piccole aziende, delle start-up, di quelle aziende, diciamo, commerciali, del mondo del turismo e dell'artigianato che fanno fatica oggi ad avere una risposta dal mondo bancario. Ovviamente non è un modo alternativo di fare credito, è complementare a quello che è il sostegno ovviamente del mondo bancario, tutto viene fatto in accordo con loro, però è una risposta in più a chi oggi non ce la fa. A proposito di chi oggi non ce la fa, c'è anche il problema, caro Energia, insomma che inevitabilmente si ripercuoterà anche sulle micro e piccole imprese. Infatti questo vuole essere uno strumento che viene incontro anche a queste esigenze, anche se nello specifico abbiamo chiesto al governo, che è stato già in parte recepito, di adottare uno strumento ad hoc che finanzi direttamente le bollette, a costo zero, a tasso zero, c'è stata una risposta anche se probabilmente parziale, però insistiamo su questo anche con questa strada.